Bentornati nei nostri studi. Siamo in compagnia di Domenico Romano, autore insieme a Luca Moretti del libro Open Retail, innovazione sostenibile in un mondo di atomi e bit. Eccolo a voi. Uno scambio epistolare tra due amici, prima ancora che tra un head of marketing e uno store manager che si occupa di libri. Un confronto quindi tra un mondo più manageriale e un mondo più operativo, da cui emerge una visione assolutamente inedita. È così vero Domenico? Grazie, benvenuto e grazie per averci raggiunto. No ma grazie a te Arianna e tra l'altro non ti nascondo l'emozione di essere qui oggi per la prima volta in veste di autore. È sempre stato un sogno fin da bambino e avere l'opportunità oggi di raccontare una nuova storia, una visione più che un progetto. Di solito noi head of marketing siamo abituati a raccontare progetti che sono in pista in questo momento o magari visioni relative ad un unico ambiente, ad un unico scenario. Oggi poter raccontare di questa visione poi nata in un periodo particolare mi rende davvero fiero ed emozionato devo dire. Qual è stata la scintilla da cui tutto è partito? Beh, più che scintilla parlerei di un fuoco che si stava spegnendo. Il libro è stato scritto in un periodo molto particolare che poi è quello che tutti noi abbiamo vissuto da marzo in poi ed è quello del lockdown. In quella situazione lì un po' tutti noi addetti ai lavori del settore retail ci siamo trovati davanti ad un bivio. Concentrarci sul montare e smontare i forecast che poi sarebbero andati tutti quanti nel... come si dice per non dire... per non utilizzare una parola un po' light? Ok, va bene, avete capito. Oppure concentrarci sul futuro. Cioè disegnare un modello di mondo possibile alla luce dei cambiamenti che strutturalmente ma anche sociologicamente stavano avvenendo all'interno del nostro territorio. O meglio, non soltanto all'interno del nostro territorio ma a livello globale. Quando non conosci le risposte del presente credo che l'unica soluzione sia concentrarsi sul futuro e cominciare a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Quindi sì, il progetto è servito principalmente per salvare la mia psiche, devo dire. E sono stato fortunato perché ho trovato un grandissimo compagno di viaggio che è Luca Moretti, un libraio fantastico, super appassionato di letteratura e soprattutto una persona della sensibilità spiccata che mi ha dato la possibilità di un confronto diretto, di un confronto tra amici, che rende poi il libro, credo, molto fruibile. Qual è il punto d'osservazione da cui siete partiti per poi sviluppare il progetto? Guarda, sono due punti di osservazione paralleli ma che poi si incontrano. Il punto di vista dell'headquarter, del manager, che oggi si deve interrogare su quali sono le innovazioni da portare all'interno del nostro mondo e all'interno del retail in generale, quindi omnicanalità, quindi informatizzazione del business, quindi digitalizzazione del business, ma Arianna sarò sincero con te, non possiamo dimenticarci di chi questa innovazione la subisce e la utilizza in un certo senso. E Luca è fondamentale in questo percorso perché lui è la sostenibilità del progetto. Non si può ragionare su un progetto valido se dall'altra parte non ci si interroga realmente sulla sostenibilità dello stesso. E chi può darti una risposta sulla sostenibilità se non chi opera nel settore. Anche se è un settore analogico, diciamo, ecco, come origine quello dei libri, no? Sì, assolutamente. Ma poi tra l'altro è sempre questo il bello, no? Noi, a prescindere dal mezzo di comunicazione che utilizzi, quello che resta, resterà per sempre, da Omero in poi, sono le storie. Quindi noi, sì, raccontiamo storie, qualche volta lo facciamo sui prodotti, qualche volta lo facciamo attraverso mezzi di comunicazione, qualche volta lo facciamo attraverso format, o come in questo caso, che poi è un piccolo pezzo di cuore, perché l'industria territoriale è quella, o attraverso i libri. Certo. Quindi entriamo più nel vivo e anche per dare una visione pratica, anche se visione e pratica sembrano in antitesi tra loro. No, voglio raccontartelo un po'. Quindi, se vuoi, partiamo a raccontare proprio i contenuti del libro. Certo. Il libro parte da un assunto fondamentale. Per concentrarci sul futuro dobbiamo cominciare a pensare che quello che stiamo vivendo non è un caso a sé stante, ma è un qualcosa che esiste negli anni. I numeri che vediamo qui, per esempio, su questa slide, sono i numeri del retail, non di giugno 2020, ma i numeri del retail ad inizio 2017. La crisi del brick and mortar store non è un qualcosa che è nato adesso a causa del lockdown, è un qualcosa che già ci portiamo dietro da tantissimo tempo. Ma perché questa crisi del brick and mortar e cosa possiamo fare per andare incontro e risolvere e trasformare la crisi in opportunità? I motivi sono tre. Il primo motivo è assolutamente distributivo, e adesso lo racconteremo. Il secondo vedremo che è sociologico. E il terzo, ovviamente, qualsiasi cambiamento sociologico si porta dietro un cambiamento mediatico. Ma analizziamoli con calma uno alla volta. Certo. Il primo, distributivo. Dieci anni fa, il mercato distributivo del mondo delle sneakers, che è quello in cui io opero in questo periodo, era così. Esistevano i brick and mortar store, esistevano i vertical retailer, cioè quelli dei nostri brand partner che vendevano quel prodotto direttamente, e poi esistevano i negozi indipendenti, no? Il negozio di quartiere nel quale tu andavi ad acquistare il prodotto. Internet, ancora nel 2009, veniva utilizzato principalmente come infotainment per raccogliere informazioni, e poi esistevano i primi shop, ok? Nasceva in quel momento Facebook in Italia, 2008 è stato l'anno del boom di Facebook in Italia, quindi stiamo parlando, dieci anni fa il mondo si presentava in un altro modo. E in quel periodo il problema era trovare il prodotto. Cioè, vedendo, informandoli sul prodotto, magari dopo aver visto uno spot tv o un post su Facebook, cercavi di trovare il prodotto e potevi trovarlo in quei canali lì. Poi all'improvviso, ragazzi, sono arrivati questi tre tizi e ci hanno rovinato la vita, no scherzo. Zuckerberg, Jobs e Bezos hanno rivoluzionato tre concetti, accessibilità, connessione e distribuzione. E rivoluzionando questi tre concetti hanno trasformato il mondo in questo casino qua. E quando nasce questa, quando il mondo comincia a proliferare di canali di distribuzione, quindi cominciano a nascere i primi e-commerce, i reseller, i all-seller e-commerce, i all-seller diretti, i brick and mortar store, i vertical retailer, i super department store, gli influencer che provano a venderti il prodotto, e quindi quando il prodotto, trovare il prodotto non è più un problema, bisogna shiftare o spostare, diciamo in italiano, l'attenzione da qualcosa che era strettamente legato al prodotto a qualche altra cosa. Il prodotto comincia a cedere il suo ruolo nel trono, quindi comincia a lasciare il trono a qualche altra cosa, che capiremo cos'è. Il secondo problema è assolutamente sociologico. Io non so, Arianna, se ti sei mai chiesta se il mondo sta migliorando, sta andando verso dei risultati migliori oppure sta peggiorando. Dipende dall'approccio, perché tanti hanno resistenza a questo cambiamento e tanti lo vedono in modo invece... Positivo. Certo. Io quello che dico è che abbiamo dei numeri che dimostrano che il mondo è un posto migliore, tra l'altro su questo consiglio il libro di Rosling, Factfulness, che li dimostra uno a uno, ma in generale un numero su tutti. La vita si è allungata e per la prima volta sul pianeta oggi abbiamo sette generazioni. Queste sette generazioni cosa comportano? L'impossibilità di dialogare con tutti contemporaneamente, nello stesso modo, con lo stesso linguaggio. Culturalmente sono distanti. Esatto. Se da un lato è una grandissima opportunità perché crea segmentazione di linguaggio, dall'altra è un grandissimo problema culturale. Dobbiamo capire come dialogare con i nostri nipoti, i nostri figli, per chi li ha e con i nostri genitori. Certo. Completamente con grammatiche e contenuti diverse. Quindi sia da un punto di vista semantico che sintattico il mondo sta cambiando. Pensa dal punto di vista mediatico. Guarda, concentriamoci su un aspetto. Avresti mai pensato a questo concetto di bellezza? Gucci l'ha ripresentato. Spera e basta, non me ne voglia, ma non è oggettivamente bello. Non è il Raul Bova o la Monica Bellucci che siamo abituati a guardare da generazione X o millennials. È un altro concetto di bellezza completamente nuovo che è quasi irriconoscibile. Certo, è vero. Quando il linguaggio cambia, quando i cannali di distribuzione cambiano, quando il prodotto deve cedere il suo spazio sul trono, cosa succede? Che una nuova regina arriva nel nostro reame, sul nostro palcoscenico. Questa regina è la relazione. Instaurare una relazione intergenerazionale, che poi è il racconto del libro, è il motivo fondamentale di ogni strategia marketing. La relazione si porta dietro un altro grande cambiamento, che è il cambiamento mediatico. E quindi, se cambia il linguaggio, cambiano i contenuti. Cerchiamo di capire e guardiamo una carrellata di questi contenuti. Prego. 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 personaggi virtuali, modelli virtuali spazi virtuali, spazi digitali e fisici che vanno interconnessi sempre di più, mondo degli atomi e mondo dei bit che diventano un'unica sostanza e dall'altra parte personaggi che non sempre sono riconosciuti dai più quelli che vedete qui, quelli che vedi qui sono tre personaggi fortemente riconosciuti dal loro target di appartenenza ma scommetto che se ti chiedo di riconoscere il numero uno, in questo momento avrei difficoltà in effetti la prima è una youtuber famosissima il nome è Rosalba ha più di 20 milioni di followers attraverso tutti i canali ed è una delle persone più riconosciute all'interno del mondo dei twin il secondo è Gali è il caso attualmente il bambino più ricco del mondo è l'unico che recensisce giocattoli a livello globale il problema Ari è che oggi non c'è più lui questo è il problema cioè una volta alle 8 e 30 a prescindere da chi lo guardava entrava nelle nostre case entrava nelle case e tutti quando si diceva Pippo Baudo o Fiorello per il più poi sapevamo a cosa si faceva riferimento oggi se un bambino ci parla di Rosalba o un ragazzo ci parla di Rosalba si resta con la bocca aperta certo qual è il controllo? come riusciamo a dialogare con chi ragiona per verticali e per retargeting? come facciamo anche politicamente a creare a dare argomentazioni in un mondo che ci ripropone contenuti sempre in linea con le nostre aspettative certo il mondo cambia e quindi purtroppo non c'è più Pippo Baudo però anche le relazioni di cui parlavi prima non tanto la relazione in sé quanto il luogo dove viene questa relazione perché la relazione non è più fisica o comunque quella fisica soprattutto in questo periodo è oltretutto limitata spazio e luogo cambiano completamente il loro senso cambiano completamente il loro senso e il significato lo spazio può essere formato da bit o formato da atomi e poi vedrai anche proprio nella ridefinizione di questi luoghi quindi nel nuovo concept retail ritroverai questi aspetti noi dobbiamo assolutamente creare quello che tu hai detto un mondo potremmo chiamarlo figitale in cui atomi e bit anche legalmente legalmente si ritrovano ti faccio un esempio legale questo è divertente tu oggi se ti iscrivi ad un programma royalties fai la tua scheda fedeltà e rilasci i tuoi dati con l'autorizzazione di poter non lo so magari ricevere messaggi commerciali ok? la stessa autorizzazione non vale per essere ripresa all'interno degli spazi fisici del banner perché? domani l'unione tra fisico e digitale ti permetterà un retargeting o fisico digitale come oggi avviene su google una volta che hai visitato la pagina ritrovi sempre quei prodotti domani anche quando visiterai fisicamente uno spazio magari in realtà aumentata magari attraverso la tua ricerca sul tuo mobile sul tuo device rivedrai quei contenuti un retargeting che funzionerà tra fisico e virtuale in continuazione grazie anche ai nuovi strumenti di fruizione ma guarda procederei con ordine perché in realtà il lockdown come dicevamo ha dato un'accelerazione a tutto questo quali sono i quattro fenomeni che abbiamo verificato realmente sui quali dobbiamo ragionare per ridisegnare il retail del futuro quattro su tutti il primo uno svuotamento dei centri commerciali e degli spazi di shopping nel fine settimana per la prima volta il fine settimana ha cominciato a pesare quando all'inizio settimana quindi non è vero che c'erano super calche di persone il traffico numericamente è calato ed è calato principalmente nel weekend il secondo si sono svuotate le grandi città esatto cosa succede quindi che tutto il concetto di real estate impostato come neanche sei mesi fa comincia a cambiare cambia il valore del negozio cambiano i valori del rente cambia il valore della posizione dello spazio fisico all'interno di uno spazio non hai più l'obbligo di entrare in generatore di traffico devi essere tu stesso in generatore di traffico una destination perché la gente non passa più quindi non c'è più quindi non c'è questa il corso Vittorio Emanuele non esiste più certo numero tre ovviamente crescita in double digit se non triple digit del canale digitale lo shopping è comunque continuato e se avevi dei sistemi infrastrutturali che ti garantivano un'ottima connessione tra mondo degli atomi e mondo dei bit hai potuto mantenere una parte del tuo business e quattro il conversion rate è salito cioè le persone disposte ad acquistare entrando in uno spazio fisico digitale sono cresciute quindi il tasso di incidenza tra chi entra e chi acquista è aumentato ok alla luce di questi quattro fenomeni che non sono né positivi né negativi qui non facciamo sono un dato di fatto esatto alla luce di questi quattro fenomeni ridisegniamo il negozio del futuro cosa farà il negozio del futuro punto numero uno non avrà più bisogno di grandissime superfici non posso ospitare le generazioni di qui sopra ho bisogno di spazi più piccoli come hai detto perfettamente tu l'ampiezza di gamma verrà data da nuovi strumenti come la realtà aumentata come la virtual reality o semplicemente attraverso l'integrazione dei magazzini cioè col fulfillment cambiare prodotti molto velocemente il secondo aspetto è quello di un prodotto che diventa quasi one to one il terzo aspetto è quello di prenotazioni in store e quindi non più un negozio che devi incontrare per strada ma un negozio che dove tu vuoi andare perché magari lavori per prenotazione lavorando per prenotazione cambia assolutamente anche tutto l'assortimento e il ruolo della persona in store qual è questo nuovo ruolo? quello di acquisire dati rispetto a te un po' come quando vai dal tuo parrucchiere il tuo parrucchiere già sa che taglierà i capelli o quale colore farai ancora prima che io gli chieda di farlo esatto e allora il suo obiettivo qual è? semplicemente farti tornare perché tu sicuramente farai il taglio ok cosa succede quindi? succede che cambia il ruolo dell'addetto vendita succede che cambia il P&L dello store succede che dobbiamo cominciare a rivedere anche come gestire le persone che abbiamo a disposizione per farli diventare cosa? dei consiglieri maieutici dei nostri consumatori una sorta di personal shopper tesi ad acquisizione del dato devono essere anche coloro che trasferiscono un po' l'identità al DNA dell'azienda cioè devono richiesti di contenuti perché non sono più dei venditori diciamo esatto finalizzati semplicemente all'acquisto devono forse far vivere un'esperienza che porti le persone lì ed è esattamente quello il punto esperienza quello che noi chiamiamo esperienza oggi ha un bug e l'esperienza è remunerazione dell'esperienza la sfida per il futuro sarà proprio quella è ovvio che dobbiamo garantire un servizio in più un'esperienza in più per ottenere due obiettivi il primo è aumentare l'acquisizione del dato quindi la tua rappresentazione su un foglio Excel deve diventare sempre più approfondita la seconda però è quella per noi addetti ai lavori di capire come creare remunerazione da quello spazio esperienziale da quell'opportunità esperienziale lo si può fare attraverso frequenza di visita o perché no anche nuovi scenari che si presentano davanti a noi però mi sembra molto facile Domenico raggiungere la generazione Z mi sembra molto facile raggiungere i millennials come fai a parlare e a coinvolgere in questo cambiamento anche le generazioni che hanno preceduto quelle di cui abbiamo appena parlato posso essere un po' un po' light su questo due cose che poi scusami sono quelli che hanno potere d'acquisto se tu pensi ok allora secondo me dobbiamo tenere in considerazione tre cose le prime è che nonostante tutto se pensi per esempio alle elezioni alle campagne politiche generazione X baby boomer votano ancora e da dove sono raggiunti cosa utilizzano oggi Facebook era uno strumento per millennials ma oggi anche grazie all'accelerazione del lockdown è diventato uno strumento che comunque è alla portata di tutti la seconda cosa che dobbiamo considerare è la questione di tempo quindi quanto l'oggi pesa ed è più importante del domani soprattutto in un contesto in cui i finanziamenti i nuovi progetti devono partire post rivoluzione che sarà quella appunto del lockdown se forse noi guardiamo troppo avanti ci stiamo perdendo la realtà oggi quindi facciamo fatica a pensarla diversa sì però nello stesso momento oggi quello che tu tu devi lavorare in parte per quello che costruisce l'oggi che ti porta a casa ovviamente però devi seminare per quello che potrai costruire domani e guarda guarda un po' un fenomeno come quello che è accaduto oggi appunto della costrizione del restare a casa quanto ha accelerato lo streaming ha accelerato l'accesso ai nuovi social eccetera quindi significa che si può fare che si può fare non è il mezzo che fa il fruitore è il fruitore che sceglie il mezzo e abitua la sua grammatica a quella dello strumento certo nella pratica del vostro scambio epistolare quindi come avete ripensato appunto ad esempio lo store di Luca come ti dicevo come ti dicevo spazi più piccoli magazzini esterni fulfillment quindi possibilità di riassortimento costante quotidiana strumenti di domotica all'interno in modo tale da poter acquisire il dato anche nel momento in cui c'è un dialogo tra sales assistant e tra consumatore un prodotto che funziona per allocazione accessibilità quindi se fino a ieri rispondevamo alle esigenze di avere un prodotto dove vuoi quando vuoi come vuoi al prezzo che vuoi attraverso le promozioni oggi il mercato si segmenta verso l'alto e risponde a queste esigenze di temporalità attraverso un altro lavoro che è quello di creare allocazione di prodotto vieni oggi perché domani non lo ritrovi più e ampiezza del prodotto poi raccontata attraverso i nuovi strumenti di realtà aumentata di virtual reality eccetera ma la cosa più importante è che il punto vendita sarà strutturato per una conoscenza del consumatore intima cioè se tu lavori su prenotazione e io so che ospiterò Arianna all'interno del mio spazio gli farò trovare un product mix studiato per lei un visual layout studiato per lei ed una persona che sa esattamente quello che vuole quando vuole e come quindi il segreto è trasformare le retail company in data driven company certo quindi un'attenzione ancora più focalizzata sulla tua persona c'è anche spazio un po' per l'aspetto emotivo assolutamente in realtà il segreto è proprio quello il desiderio anche il segreto è tutto lì il marketing a quel punto dovrà interrogarsi su come riuscire a suscitare bisogni e desideri come lavorare su queste verticali ma soprattutto come andare a toccare quei punti nel dialogo con il consumatore attraverso poi operazioni di maieutica che dovrà adottare l'addetto vendita che siano anche emotive se tu pensi ad oggi come funzionano gli algoritmi dei social network ai si da una parte una sfera razionale cioè ho reagito in 30 secondi almeno 30% sul secondo articolo ma c'è anche una sfera emotiva nell'utilizzo delle parole nella strutturazione semantica e sintagmatica di quello che tu vedi di fronte a te perché poi credo che al di là del bisogno sia quello che tutto muove insomma l'emozione alla fine quindi tu mi dici che si può fare anzi voi mi dite che si può fare anche senza passare da quelle piattaforme che tutti conosciamo insomma che hanno monopolizzato assolutamente se cominciamo a considerare il banner come un universo costante di valori che poi a quel punto si muove attraverso canali di distribuzione che potranno cambiare oggi o domani e il legame sarà col brand che propone quella tipologia di vendita quella tipologia di prodotto e quella il lavoro di acquisizione del dato che porterà a te a sentirti in famiglia una volta varcato quegli spazi fisici o virtuali allora sì la risposta è c'è più futuro che è passato in questo settore quindi ci sarà un mondo migliore c'è un mondo migliore? io ne sono fermamente convinto il messaggio che vorrei mandare è assolutamente positivo ed è anche poi l'unico che noi millennials possiamo darci a vicenda perché ripeto chi ha più futuro che passato non può pensare di avere tutti gli strumenti in mano per garantire a se stesso e alle persone a cui vuole bene il miglior mondo possibile ognuno di noi è responsabile di questo mondo quindi prendere i punti analizzare quello che sta accadendo e cercare tutti insieme di disegnare qualcosa che possa creare un sistema sostenibile è questo il plus di questo libro perché i nostri spettatori dovrebbero leggere necessariamente questo libro per trovare risposte io credo che il primo plus assolutamente è che è scritto da due millennials e quindi se volete il punto di vista di una di queste generazioni che oggi sta crescendo forse vale la pena leggere le parole di due millennials la seconda cosa è che il libro presenta un modello di business all'interno è presente un PNL e mette in confronto il PNL dello store del futuro con quello dello store attuale tre il libro cerca di disegnare dei mondi possibili quindi coraggiosamente presenta una vera idea concreta e quattro io credo che in ogni caso se tu ascolti ascolti chi questa innovazione poi dopo deve scaricarla a terra deve lavorarci con questa innovazione non puoi che fare del bene perché non ti stai trincerando dietro la tua posizione dietro il tuo titolo dietro delle barriere cognitive che ti si è autocreato ma cerchi appunto di creare una sostenibilità insieme e alla pari assolutamente a chi questa sostenibilità la porta avanti ogni giorno quindi può aprire anche proprio un'occasione per aprire anche la mente su uno scenario nuovo quindi una lettura nuova quella che tu hai dato fino adesso ma penso alle persone più resistenti penso all'Italia il nostro mercato che è un pochino più resistente rispetto al mondo diciamo guarda ti invito a leggerlo perché io penso che se tu riesci a parlare con la stessa grammatica che comprendono gli altri poi l'Italia è un paese molto fertile da questo punto di vista noi siamo un paese di grandi imprenditori siamo un paese di piccole e medie imprese che hanno sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo quindi il punto è molto spesso veramente cognitivo cioè è difficile parlare tra millennials e baby boomers la stessa lingua allora se noi facciamo un passo indietro e cerchiamo di raccontare e dall'altra parte si tende la mano per cercare di comprendere penso che il futuro non possa che essere sostenibile non vi resta che leggere il libro di Domenico Romano e di Luca Moretti open retail innovazione sostenibile in un mondo di atomi e bit sicuramente la vostra mente avrà occasione di vedere nuovi scenari o comunque di valutare nuove opportunità grazie Domenico per il tuo stimolo grazie per il modo brillante e anche concreto in cui l'hai raccontato grazie tante grazie mille a te davvero e grazie a tutti voi spero davvero che ci rivedremo presto e magari non in questo formato digitale ma di persona grazie perché la relazione conta ancora e sempre in qualsiasi luogo avvenga grazie a voi spettatori ci vediamo tra poco